let's go bitches in questo video affronterò quelli che sono diciamo i miei pensieri cosa penso quando gioco cioè quello che non viene detto perché ovviamente sono delle cose che ho assimilato e faccio mentre gioco quindi ecco qui inizia la partita come vedete sto giocando con l'emtar perché ho cambiato da rsmg quindi vi dirò un pochino le cose 3 2 1 via mi giro subito verso sinistra a vedere pro shop per vedere se qualcuno rascia e lo prendo subito utilizzo una granata per cercare il ponte e vedere se qualcuno prova a fermare quelli in c e vado a seguire il mio compagno che karma che è morta al centro una stun subito per proteggermi e ora vado a controllare se il tizio che ha ucciso karma era passato al centro non lo trovo allora mi ridirigo di nuovo al centro e vedo un pochino se c'è qualcuno vedo che in b il mio compagno era girato di schieno ha deciso di andare di dietro all'avversario in modo così da aiutarlo a catturare b e ora mi butto in a dopo che ho visto il puntino russo ora posso rimanere in questa zona perché tanti nemici rinascono sotto all'uscita di pro shop quindi mi metto qui a fare un po di kill e a cominciare a tagliare fuori i nemici infatti mi avvicino in a e comincio a segare i nemici come ho detto rinascono in quest'angolo di pro shop dove ero io comincio a girarmi perché sapevo che avendo invaso la zona qualcuno poteva rinascermi dietro e lo ammazzo ritorno indietro ma so che ormai non respona più nessuno quindi decido di catturare a ormai i nemici sono sponati in c come avete visto hanno ammazzato già due compagni sono andati ora in b mi dirigo quindi con il mio compagno verso b faccio andare avanti prima lui perché non mi fido e infatti ho fatto bene per così ho rischiato pure di non morire abbiamo due bandiere non c'è bisogno che mi butto in b da solo quindi mi tengo qui a difendere a e ho video col compagno qui davanti quindi lo aiuto si fa passare un compagno avversario davanti e via boom momento di busciare tre morti tre morti è il momento di andare avanti però andiamo in b come vedete se notate la zona diciamo vuota era quella di a quella zona sopra a e quindi infatti mi sono girato e l'ho ucciso con la k quindi ricordatevi sempre di stare molto attenti alla minimappa e vi fa capire dove rinascono i nemici ora mi avvicino in a perché so che qualcuno potrebbe essere rinato infatti eccolo fuori uno cambio arma vedete sono rinati in a perché tutti i miei compagni erano nella zona tra b e c quindi era ovvio che l'unica zona aperta è quella di a rinascevano l'a dato che la bandiera è bianca decido di catturare che ci vogliono solo 5 secondi quindi da solo è abbastanza fattibile come cosa e decido di ritornare in b che è la zona che non era ancora controllata vedo se c'è qualcuno da una controllata vedo che c'è il mio compagno quindi decido di tornare indietro passando per cucina perché per cucina beh perché così vedo il centro mappa infatti becco uno che proprio correva al centro mappa ora dopo aver ucciso questo vuol dire che i nemici sono rinati quello che arriva dalla parte di a quindi vuol dire che erano rinati in a e infatti come vedete ci avviciniamo in a tutti insieme e cominciamo a tagliarli fuori però uno mi rinasce dietro errore ora veniamo subito qui rinasco al centro mappa ho diverse scelte preferisco tenere c ed a che concentrare diciamo a prendere pure b ma i miei due compagni fanno tutto da soli so quindi che loro rinascono in quell'angolino prova a tirare una granata per vedere se c'è qualcuno ma niente ancora in a che non è di nessuno quindi unica zona libera per sponare vedo un nemico che si trova proprio nella zona di pro shop di cui vi parlavo prima e via dopo aver fatto queste due kill dico agli altri di andare a prendere comunque a perché è molto più fattibile ora rinasco qui in cittino una stun davanti pro shop perché penso che qualcuno possa essere rinato lì e infatti lo stunno proprio perché io sono rinato in quella zona quindi vuol dire che qualcuno potrebbe essere in pro shop o dentro b dentro b proprio un pochino fuori b quindi proprio per questo ritorno indietro e controllo se c'è qualcuno ma non vedo nessuno penso sia andato su a infatti eccolo lo ammazzo ma niente non si sa come ha fatto solita kill di connessione con one shot però non fa niente rinasco in a quindi nemici rinascono tra b e c penso nella posizione vicina dove ero rinato prima io che di cui vi parlavo prima decido di uccidere quelli che sono in pro shop in modo così di andare verso il mio compagno karma che è in c ecco e ora torno indietro dato che ho visto che il mio compagno era già là mi dirigo verso a perché so che potrebbero sponare lì e infatti sono sponati doppia easy bababababam ma c'era un altro nemico accanto a me che proprio non avevo notato vedete che sono tre gli avversari stessa cosa qui riprovo il giochetto della stun vedo un pochino bam ristunnato di nuovo stessa cosa mi giro granata per vedere se arriva comunque come vedete sono tre gli avversari ora è veramente una cosa brutta giocare lega su ghost la gente lefta sempre non non è possibile veramente giocare una partita e completarla o si capita con degli avversari scarsissimi o se si capita con delle persone abbastanza decenti cioè pure scarsi però che almeno giocano per vincere è un po diciamo sempre brutto perché si capita contro gente scarso che lefta quindi abbastanza uno schifo comunque i nemici dovrebbero rinascere verso c e uno rinasce invece nella zona di pro shop quindi cosa vuol dire questo che sono rinati dentro pro shop e quindi si dirigono o verso a o verso c infatti ho uccido uno e dico a karma di andare in pro shop ed eliminare quelli che vanno su c che hanno fatto il giro nel frattempo e sono andati verso b come vedete un era dietro di me l'avevo sentito che aveva fatto il giro e via tagliato fuori ce n'era anche un altro questo perché ora sto uccidendo queste due persone questo perché i miei compagni sono nel tra c e b quindi l'unica zona disponibile per spawnare è quella di a dove io ero sopra quindi non coprivo nessuno spawn e la zona quella di pro shop in quell'angolo fuori pro shop spero di avervi spiegato un po come ragioni in partita bitches spero vi sia piaciuto questo video è una prova un po particolare quindi vi saluto bye bye bitches let's go grazie a tutti grazie a tutti